Alla mamma, le parole più belle Le sarà mai a sé per parlare della mamma e quel che l'è per te La ti stringi sul cuore quando ti sei piccina Ti sei talmente tesore, la dì io, al me curi di Quante le noi perdite, restate senza fiat Quando nel tuo litio ti sei malato Buono di compati, buono di perdonare Mamma che ti ha chiesto, lei la ti ha dà una mano E per calma il tuo mai e quando il cuore ha il tuo La sape cosa fa per al suo caro fiore Igo la mamma un caso, le nà bene di siù Se gaffesmi a lei che grande so la siù I sanno in corso po' a rito e che resta senza Gli è lì abbandonati e senza providenza A tec, lei la è l'be, la duna che recò E quante scaragnate che tocca a mandazò Edrea la sua vita, la passa un po' dei guai Ma lei l'hai a te scundici ancora e l'hai adismai E il be che vuole una mamma, l'è una virtù immenso Fa quando l'hai invecciato con De Igor Iverenzo Tei qua in convi una mamma, anche le ha polso dè Col suo ricordo ancora, regalò me con il nostro be E ho altre tutte mamme, che ha i fiegi dalla vita E il grazie più profondo dei mitici al mondo Grazie Grazie Giovanni Bresciani, anni cinquanta cinque E ancora trenta meno da me Paolo Bontempi, anni quarantotto Ah, del Bontempio quest'oggi è ancora proprio più Paolo Bona giornata, papà Hai il tuo sol e a tutte le tue sostanze Alza ressa sì, io per poco parentelo che spero di eredità Ma te, papà, te hai la grazia straordinaria De trasformare l'orto, quel che ti tocca Cosa fareste mai se ti fredessi a insegnare? Per tre delle filo fareste il dialogo a quattro Alza resmi chi metterò a dover Non, non, esagero, amico Che è il tuo modo della vita? Ti ha chiesto tanto? Una bella famiglia Ma, po' è toccata sta drè Un figlio, un po' lazzaronne Ma che riaspendere gli interessi E io, un po' suonato Ma poi vuoi dire che sono sei della nonna Maria La nera, buona scessa La ganna qua mania di nobiltà Parlemia di Gioannone Con il suo liceo colai italiano e le cittadini importanti La resta una stangata sulla capella del cu Tanto le volte che la vera la bocca Calma e buba Se no, mi tocca dare le pastiglie del nervo E poi quelle della pressione E poi, che è carmina Che è l'altra sera del sac de anni Ah, una bella resistenza Una suora per via della pazienza La cavalletta viene dalla campagna Ma la donzelletta E poi è il suo che calo Mignolo sol E poi il poeta Che il seriuton della casa Può sergare la gobo Le leopardi Mignolo Leonardi Dio nonno Che mignolo che sei E poi La cultura Qual è necessaria Se no, tutti dicono Che gomma appena insolce E un po' poco Va per mia Un po' poco Ad il mio Nutrottone Se no, buttano in delmella Tutte le mie sostanze Sì, sì Che mancherà Sapene questo Con tutto il piscio Che ci buttano dentro In delmella E tutte le sostanze E gli scarichi industriali Finesca il nostro impetuoso fiume Divente inclinato No, basta Inquinato No, basta Paolo Portalo via Portalo magari A Calvisa Dai Bellini Sa sa mai che non lo so E in casa Martinelli Sapel mio Portà Una follata D'intelligenza E di nutrizione Per voalter Ha bene la sostanza Per lo spirito Zero al quato O incondotta Come si suol definire Applausi Bella a fare i miei fiori Ha spusano Ha sempre montato A scagno Quando sarà nata Andò e ha pescato Giovanna Al te dei romani La casa hai salvato Oltre il Campidoglio Da che risu Eh Come il dottor Ho portato il suo caffè Ma però mi ricomandone Puc succo Per al suo diabete Se no Se no il dottor Alza la ciappa Con da me Alla mia età Non c'è diabete Che te A proposito Paolo Andò il tuo fratello Lo mando via Per al mestiere E la resmia Che nasce Combinato Genova Il dottor I gara di E poi In realtà L'uomo È carina Ha 80 anni S sa peu d'arese pensà Noi Fa serve Prepararsi Per l'amore Che è la roba Piedomocraticca Che è la famiglia Differente Algarisù Comendato Algarro Proprio Ma, per mio, che il mio figlio Paolo, poverino, non è sempre stato in casa. Il mio figlio, il mio figlio è che non soppero le uscite e le mie le entrate. Dopo, il mio ucceco, ma è una timidezza che sarà fare a voi, per voi, che domandando il cesso. Dopo, ora c'è te, Carlino, l'unico che fa l'epidame, che ma è il bè. Comandatore, ma fa che senso, fa solo sangamare. Lui, è il gaffato troppo per la famiglia. E poi, a dire la c'era e netto, lui, ha l'asso che tecch col culon del potere. Che a dire, che è il gaffato e soffi, ma, oltre che potete alla casa. Papà, a che rispora, l'irrede universale delle sostanze martinelle. L'è un filioso perché l'è nascito al forno, la tua acidità la passa con il bicarbonato, a me che io mi te sempre scappai da l'os. Per chi? E allora, come la nada va facendo? O insumi in si. Eeeh, mi è peggio male, mi è d'ora di chi che penso. E i soci? Ti dici a te quando? Quando chi che ha? E te, ti sei soddisfatto di una risposta del genere? No, io che spero è proprio il canù, tanto i soci che è a mio e per il mio a dati. Ecco, come che l'è il mondo andet anche, siccome in casa a mantenere il ganè, a un portamino se ne resta un giro. Per il furtino che la cassa la resta un mondo le me ma, eh. E io mi per tanto. E poi faccio parte? Eh? Ciao, di barro. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Beh, s'è l'especcalista, me che l'especcalista mia inn? Ascolto il tremano, a caso al passito, però al bar, al pagacetto sì, basta qui l'arte sapto sguerce. Ja se la sta, a sui not, le mie stupi, e vena un po' timidi, agarè ha bisogno di stampo per tanto ammesso la gente, ma ha trattato la madre sin la copia della comandata a la madonna del rimbambich. Menomal, che te cacettino no, perché per crendo la mamma del bubà? Garès debuto mandava una candela a la madonna del Carmen, ma per disgrazio ha ricevuto me, me ha dato l'estes, po, la mamma de compatita un po', eh? Ah, po, la colla soig, la compatesa. Al giro, se l'ha scoperto, l'auto nobile, papà, l'idea, un campiù di affare, l'acciamo fino a mai a Ciapponosche. Calma, calma, sui no, un po' di rispetto, a fin di questo mai c'è da buona metàolo, e pinuro che detesta le mio portato. Ma, alt'amor, che adesso è mati nisso mai, eh? Nom, nom, io mi tirare con questa famiglia modelo. E' un po' di rispetto, ma anche un po' aggiornato che dice, fin dal tempo dei farisei, che è che è assunto, è sempre i martinei. Eccoci qua, tutti riuniti, la bella famiglia Martinelli. Eh, ma che mislo? Sì, sì, con la vita. Gho fatto un ascoberto sensazionale. Prepari le ganasse, che adesso mi non. Gho capito, dopo approfondito studio filosofico, perché le grappe de morte le ris sempre. Ah, sì? E perché? Perché, perché che i veri che gaffa i gattigoli. Sì, sì, mi che l'hai fatta al liceo. Vedelo! Beh, come l'ho fatta al liceo. Ma, ma, so fado una chiltira. Beh, per me che... Come dire, sono un'autodistratta. Eh, signor, prima l'autonobile. Ah, beh, anche l'autodistratta. Eh, sì, perché è un po' la ganasse, è un po' la fia. Eh, sì, ah, è anche lindità sia sorale. È un vecchio Martinelli al sastopole o l'ane, è un salitiro. Sì, sì, po' è un vecchio. O tanto, i che buon danti. È un po' di sticompañia, po' di roma al posto a San Piero. Sì, è un po' di gara di mon amare. Non, non, non. Grazie. Che dei piedi amare sei, è proprio alla fine di una vita, tutta dedicata al laurea e alla famiglia. Il figlio è un sottoprodotto, come dice al Dedenk. Avanti, avanti, avanti. Buongiorno. Cosa si chiede? Ma se mi trovi il ferro del canù. Me e lui, vorrei dire lui e me. Si chiede, ma il suo comenta tutto. Lui mi domandava un gran piacere. Si, un piacere da domandare. Non senti che lei sei generosa, che lo vorrei saldare la mano. Ma beata tecla del San Giotto. Al comenta tu, lei è appena nata perciò. E ha detto la santa herità, ma se la sente mia di disturbarla. E poi, i affari, gli è passati un po' in delle mani del suo figlio in Piero. A zia mia o altre. A zia mia o altre. A zia mia o altre. A zia. 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 il giù di sol si sentia mia umiliata. Adesso perchè in giù te li cambiai di pagata, ci aveva tanto la foto madre, povero e ciò lì. Che è che mi sento? Ah, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Salve ti giù, come hallo? Si, la vi come quei che stanno piccoli e stanno perli. Mi giro le parole, cicciaruno. Ma, se ho capito bene, si può percorso ai mal. Si. 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 se ne prega, tu me la metterai va bene, va bene basta con il schermo, la stiamo siamo mezzo più grande per tutti sarà pronto ready? sono confuso dalla sua generosità grazie grazie Presti? Sommia la banca martinei al presto di Biusco! E dopo te lo uso per recuperare i miei soldi! Fuori d'alda stifita! Per quattro palanche ti si fa pesare come un sallot un tacan di quarta segata! Oh signor, che vuoi mai te far? Sega duro il posto del cervello! Les voy là, come dissi Francesco! Oh, giovanotti! Ma state qui con le mani in delle ma in questo momento di Bohome economico! E tutto l'onere della casa, come le pubbliche relazioni, le resto sulle mie spalle! Mancava appena l'auto nobile! Ma dove sei stato? Leo, pesca te sei via la casa! T'assume lo giusto, e stai via tutto il tuo tipo in caccia! E... Oh, brava Giovanna! Anche le leumaghe adesso! Tassi proprio un bel concentrato da tutte le bestie! che cosa? E' tutto! E' cieco? E' un po' che vele via! Sì! 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 Eh! Carlino! Fai pensare alla mia età! Ti vuolta! Ti vuolta! Ti vuolta! La coscienza! Ma vedi che con quello ti si mette sempre d'accordo con quello che hai delettato! Ma quando sarà la fine del vicolo? Sì! Perché lo hai visto nel mio più lungo del vicolo! Sì! 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 Ma comando tu! Ma sta che sei re! Ma quanti come lì che ha assistito alla famiglia? Che ha dato un'amore a tante persone? Che dopo magari si è desmentegato! O pensano che l'ha odiato! Eh! Grazie, Carlino! Perfiltino! Che ogni tappo di sfogano con te! Giusto! Pensare proprio a te di qui! E direi così che Carlino la ganava in possesso! Ma è uno sgarbo! Ma è un'emcazzadira! Ma è una parola fuero de posto! Troppo! Troppo, comandatore! Lì le troppo! E poi, dice! In tachanchele che l'ho mai sentito una volta tirasola per l'asso! Ah! Se l'è perché, sior comandatore con un'amore digna E perché può? O può! Si sa mai eh! Ah! Certo! Certo! È prudenza eh! Ah! Se avete questa qualità anche la res me fio lo Paolo e me fio il Piero e io mio da cieco al safarà e al te! Al pensare mio mal comandatore la disegna per scherzo! Che che resta? I s'arrangio sempre! E è quei che va che la sonta! Purtroppo! E se che le impugna di che in amese idea la magia operasse a dover Ma parte di esso era la figlia Anzi! A pensare a me solo la figlia Ma cosa dice il mai comandatore ma la disegna per scherzo? Cerco del Capin Cardino La questione del testamento è una cosa importante E al uno il vecchio Martinel al can del cu non ha messo idea Ed me fa un vesco il sitì e poi si è per caso come vai corren eh al gareggio deve essere dolta Beata tecla del San Giot ma al saspieghe comandatore al saspieghe che mi capisce niente D'era bene urlare Thei ta gette da nana ma asistemente benino del letto come se fuche mort arrest! Lasse mai lo fai a me! Per lì Il signor Comandatore è il fuoco, ma Dio sa se mi tremo il cuore e porgo tutto il cuore. Andate, d'accordo eh? Con il mio bisogno d'interfasito, eh? Certo, certo. Ardonchetti fai martenei alla morte per il filtino temporaneo del vecchio. Che si andrei a fare? Ma sono i due della mafia. Chi ti faccia che le mafiasi poco, specialmente te Bubà? Che mai che un complote invece un alfera e una colfa con la lavoratrice domestica, come dicono che farò di nuovo. De te ma fine Puc, t'ha setta bubuna inventandola tu. Ma la preoccupa mia signorina Paolo. Al Comandatore, lei sa che pensi alla sua salute e a quel che arriverà? Bubà, che senti di cieco? Par che se lo intende con la tersilla di Cagni? Ah, una bella coppia è. Fiortina che saper capisci poco i segni. Lascia perdere Paolo, che cieco che sarà sbrigare per il soccone. E' da che bel partì che hai il filo da tuo fratello Piero, Giovanna. Eccomi qua. Mi ha chiamato Martino e il luce mio. Ma se ti andrei dalla porta a spiare. Tu mi ha chiamato. Se ne andrei appena avvantà la gran fiortina del mio fratello Piero. Che a forse da cercare la prima scelta, andrà trovato a te. Calma, calma, nono Martinelli. Se no, oltre alla presciutta va su il polistirolo e il tricicino. Come diavolo, lo facciamo oggi. Signor Vardisò, perché se arde su e valva è dei genocci. E poi, a guardare sul fondo, vorrei più di pretender ben alter che Piero Martinelli. Con la mia classe e il mio portabarbossi. Al tocchi? Ma insomma, il mio portamento no. Certo, certo. Con te la nostra casada, la ragazza per l'estero. Ciao, che l'estero. Ho portato quel tocco di raffineria che permette ad ogni buco di uscire con la ciambella. Allora non viene preoccupata appena del tipo di gerente. E anche la risuca la mia. Basta la salute. Eh, sì. Come il disio che è il talo per adde l'ulcera, quando c'è salute c'è rutto. Eh, ma avevo sempre la cameriera anche la casa. Ok, tutto sempre fatto è me. Ormai, chissà, nella porta. Ormai. Questa. Oh! Guarda tutta me nelle occhi. Quasi, quasi... Oh! Quasi, quasi... Mi dava un pestolone all'alluce, sì. Oh! Piano. 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 Piano, Gioanna. Piano. 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 Starola. Piano. Upiesta bene. Piano. Piazza. Cmaçantala. Standala. Piano. Dottor. Alla, dottor. Piano. 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 Sì, perché mego il sostentamento di una manichè in parigina, gambe dritte, petto in fuori. E' un po' basso, e tutto l'altro è il suo marciapè, puc, retta sentata sui cali. Fammi l'insultevole, un marito con la sua diletta a moer, come il di San Preerbe che si conventa a me, è il che deve essere un cavaliere. Ma no, a te ti occorre un cal? Va, che trote, che ti fai andare a gambe in sé con la speranza che ti s'acchiesa l'os del colo. E' il che ti piace essere, sa? Che mi succede sverguto? Ma la tua, Giovanna, la ha una salute di stronzio. Lo saluto da chi? A stronzio. E' perché ti senti un po' come l'alasca. Lo stronzio è un metallo togo, anzi, toghissimo. E là dove però fa le rocchette che faccio passare un po' stile alla sobbio grasso. Ecco, me so come lo stronzio. Tu sei un po' pirlo tecnico, come si dice! Ah, so che ti senti un po' Se che te dà uscuta tutte le uschie a giro, che avesse palpando al frutto delle macchine per vedere se si deve uscuntare, conto! Ecco il solito marito loffio. Capite essi sportivi, eh? Oh, che cosa vuoi che sia un un soffio d'amore, uno starnuto di gioia, uno sbisigolino al cuore. Fermi, fermi, se no, fate lì, ma tu non andrei per ciappare qua lì su. E poi dopo uso la resa di chi confeserà sportivi. Che mi abbia sopportato una faccenda in boccava che stasera fa mica male e beccalò. Cos'è tal di che dai per ticote ho lì? Al mattina sera papà io non ho spagato i figli. Basta, con che sto facendo, se no cominciamo a sberlarci del primo classico. Gli tetti calunni mi tiro in giro delle mie amiche invidiose del mio fascino che è tanaglia. Che, se hai argomento che ti fai passare che ti volia la massa o appena a me. Pianone, che tassi neanche te uno zinco di santo. Mi è arrivato al padiglione auricolare Certeus. Che lo resta di? Sì. Sì. Quando ti andate in campagna, mi ha detto che ti ha detto di manù. Sì, proprio come dice i latini, brevi manù. Insomma, tagliate il palpo poi. Chi ti ha detto una bella del genere? Se l'è perchè li mi hanno detto i pesci. Sì. 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 Se vuoi fermare tu i tuoi, stai calmi e senti il suo. Dopo anni. Dopo anni, cunni va per la sua strada e fai geloso. Fai pietà a io. Sì. 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 Ma sono i due figli che hai bisogno di una bella palpa. Sì. 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 Daiiii. Sì. Sì. A te cosa ti interessa il giuro? Aspetta il poggio del testament? Per esempio. Ma a te cosa ti interessa il testament al papà? Sì. Se per essere legittime non... Ah, adesso pensi al becchetto a la tua sorella eh? No, 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 mi piace già il mio interesse e i sentimenti. Occio? Che il sole che a me ne ho? E vieni in mia, a dire che il sole fa a mia felicità. Oh, e sarà a mia idea, è loro che porto il buon tempo! Ti faccio il tuo che dà che entra il mio più martenei. Ne vederon delle belle per via dei solci e dell'eredità. Che dà che entra il mio? E li vederonne. Piero, me la contente è mia ma della legittima. La tutta è una vita che so che in casa. Con sacrificato, sentimenti e passiù, per questo che paga la guardia e mi soggio. Ma che partiti a te per andare? L'eredità universale delle sostanze Martinelli sono me. E vedi a chi mi mette in bastone dell'eredità. Ah, l'è comodo lì Piero Martinelli che fa il disco. E a me, che guarda insieme alla famiglia, una bella pestata nel dedretto. Ah, no, è proprio snotto. Ti senti mica che forse che mi dà i soldi. Perché? A me vanno tutti. E a me, che aspetti? È il papà su me che fai a posto, mio amore. A scampo può perdere i spetti. E adesso arrivi a te quello che ho pretenuto a spartare a me. Ma a me, io te rida. Spartare a me. Dizemi a me proprio a me. Certo, però, una bella fetta di tutte queste sostanze che mi permetterà di andare a spartare e andare al mondo. Trova qualche bello sui notti. Dio, che sogno! Per quanto da me, te hai atti insieme a te tolo vito. Dio, che hai che t'aspetto? Già utluri! Allora! Te la proprio fa marabia! Voi staccare in senso seco! Razzo le abaraccio il piede e fitch! Molestare il puto e fa niente! Se tocia la pittata coppa! Grazie! 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 C'è certo? Oh, tersino, che scarto lunghe che t'aghe è. A caso, con un ferro, è molto lunghe. Ma non le petaste bene. Sì, danni tu appena, mai va che è bruso. Tappini? Come che dì mia mamma Giovanna? Sì, che è il Cristo paese non c'è niente. Come si chiama? I tappini? No, tappini vuol dire che te tappini, te fai niente, o che? Ma Dio cieco, come sei intelligente. Che parole sarai vociate? Ardo, tutto madre. Ma non venia il rosso, eh? Che c'è qua d'assù? No! Fa mica venia il rosso. Perché, come qui ci sto in me, sono un po' timido. Se ti sentimi te, se ti sentimi dopo a me. Ma a me? Questo mio, come fai? Nel rosso. Che allora? Se sta bene? Ah, ma ho messo mia maglia nel letto, eh? A dormer. So, tu a me? Ma perché? Ma perché? Questo era il mio giro, un monumento che è inventato a lei. Perché? Quando la zè, le ne le, la dormo. E a loro gli state smettendo cosa fa col monumento. Che raso le spiega a sciù. Che belle manune che sa che è in secco. Dio sa come le farà male le tue sberlasse. No, ma la lascio. Chi no? Le ma, le ma le fai, le fai per le carenze. Attento, cieco. Ardo, che se me è sui. E invece che in giro, and sa di orecci che le ma fissa. E dopo la zè la cicciaro. Ma come te sei vero? Ma come te va piacere? Chi no? Che preoccupa a sciù là? Sa perdere al dè cieco. Mi? Che sono a barzelletto. Dei due muri. Dimmi. Che riavo mio a parlà? Dai, che non ce l'ho? Mi ero senza zio, sono andata anch'io come notte a due. E io sono andata, ma ogni anno il mio se l'ha argogno. Quasi come no a te. Fa sì. E a un certo punto lei la salva coraggio e la dì. Me? 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 Me ma se c'è mia maria? E mi? Che rispondi? Me no. La salva sede mia che ti aspetta anche una barba di salva uno eh. Un... Con te che ne state? O cieco se tu mi amassi? Ma lo lascio fino a che non ti amascio mica! Per vinci cieco ti smonteresti a fare una sfidera di panno montato eh! Ma dai stringiamoci la corda come che canta i fratelli dell'Italia! Eh? Ah si? Che ti basarei in basi tra naso e barbos! Dame, dame il fagliessi malato! Ti basarei sui tetto dalla cappella del cuo al di grosso del pezzi in inter! Perché è proprio il pezzi in inter? Ma perché la cazzo del cuo? Ma dai che hai tu pezzi? Pezzi non la saranno bene! Ma tu non sei! Pota? Ma cos'è chiusa Pippo pezzi per di due colombini? Sì! Ah! Che è che ti tuvo? Sì! Che è che ti tuvo lui che ha proprio capito un tubo! Sì! Che è che? Sì! Che è che? Come stava il tuo nonno? Il comandatore martinello? Mi ha detto beh! Ha detto che la storia di questo mondo! E poi... E poi... E poi... E poi... Poi dopo... Dopo dici una roba... Che è messo in memoria... Che è messo in memoria... Che capito cosa che noi dì! Ma tu ma che dì sei? Lassuno! Ma dìste... Che da stai facendo l'Italia... E una repubblica... Andava sul lavoro... Ma che parando? Tu sei sei che da fare niente! Ah! Come il capese il vecchio martinello! Per è una fritta argota... Una birreta... Un gazzosì... O te cieco preferisci un pirlo! No no niente! Tanto meno un pirlo! O te sei ammirato il mio nonno... Se mi andai troppo andando qua... Mi vuol dire un pirlo! O tu che vieni là dentro... E se mi andai a sguinassar come a marchi! No no niente! Niente! Tanto meno un pido! La ringrazio e lo stai spero ne! Adesso mi accompagna a casa l'altra il silo! Arrì di saluda ne! La salute! I brai serne! Seguro che va di sì... Sovraio tentare... Sovraio tentare... ...di formare... ...ma... ...la tipo che io... ...tengo... ...una roba che porta... Allora... Come nome! Carriamo da sempre che c'è... ...o te lasci col cacè che es badaccia! O te... ...cominci a bere! Sì... Allora... ...no a te... ...è... 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 ...la sempre sta tangando... ...per furtino da tutta la famiglia! Ah... ...certo che morli... ...com'è come andrà la facendo? ...eh... ...mi muore già c'è... ...e ti vive... ...e... ...si dà la pazza gioia... ...anzi... ...unca è una specie di sostanza che adesso andrei in feccio... ...la di la rimartigna che va prima a te... ...dite a me... ...ah... ...certo che l'havia scampato andare... ...eh... ...e non bastite sbaracate... ...almeno come se senta in giro... ...se sbaracato lì... ...i sbaracato tutti! ...ah... ...certo che l'havia come soffiò il Piero... ...qu'è... ...è... ...è poco... ...i lo colto di bene sul suo colto... ...culta... ...i dìs... ...che l'era appena espusato... ...e dopo le prime sere... ...e... ...passà di esbisigurare la forna... ...e... ...n'ha pedì o peu... ...d'andà l'osteria con gli amici... ...ma... ...la sua belva... ...l'ampessa la luce... ...la se sento sul soleil... ...ah... 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 ...la Martinelle... ...ora è bambita... ...canta fa come il campanino sull'anzeno... ...e... 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 ...dò... ...el personaggio... ...e adesso... ...comi dìs... ...l'erreca si è smorso... ...all'ultato degli 80 anni... ...e che il resto... ...l'està che l'ha tardé... ...l'està che l'ha tardé... ...l'està che l'ha tardé... ...l'està che l'ha preoccupato... ...e... ...dopo bisogna dire che l'ha segna... ...la cicciare... ...perché lavare la bocca... ...ecco il giorno delle robe... ...che sei per il mio fa... ...t'opaga la bocca... ...i petego... ...potami... ...se che tirano via anche... ...na qua murmurata... ...se che resta mai... ...al'uno... ...petego l'escarpettino l'escarpettino l'escarpettino... ...e... ...l'he sentite... ...le us che gira... ...se la Giovanna... ...la scusa... ...le quiero mantenere... ...dige... ...e... ...l'escarpettino... ...e... ...e... ...parla di cor... ...e... ...al'a qui al'uno... ...ah... ...famiglio il dritto, eh... ...ah... ...la Giovanna... ...que lo schifo... ...dell'alta società... ...della gente bene... ...comi dice adesso... ...la mette in quente... ...semmo tenta... ...con qualche sbrassolano... ...ferrovia... ...ah... ...ah... ...basta... ...che la dervi... ...la bocca al momento... ...d'esbisiru lì... ...se denota salì... ...de poesia... ...ah... ...eh... ...lì... ...piero... ...com'è l'elo... ...al che accorrei... ...soce le cause perse... ...poi regalare la forna... ...con la stanghetta... ...oltre che storie... ...eh... ...un momento... ...i dì... ...che poi il Piero... ...el che vado mica... ...a spese... ...con la Maria... ...a studi... ...quale... ...che la rotonda... ...com'è un angherio... ...che... ...che... ...eh... ...vabbè... 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 ...io mi porto il capello... ...come si dice... ...oh... ...beva questa... ...allora la forna... ...le mio più forno... ...ma la fabbrica... ...de corre... ...ah... ...io... ...e poi bisogno mio... ...de smettere gas... ...che la Senna... ...che la attacca sempre... ...è... ...l'importante... ...ar di... ...lea e l'isbe... ...è che marita... ...moeri... ...sapè sempre... ...io... ...te che vè a sair... ...justo... ...e poi... ...me del Piero... ...e della Joana... ...me fan baffo... ...e mio... ...e però... ...resto... ...resto la Paola... ...e... ...momento... ...euto... ...liena de sol... ...de una sostanza... ...ma... ...te che te senti un giovanotto... ...que te senti a esposar... ...ma che te senti al peixerino... ...o... ...il ragasso... ...resta ragasso... ...tu ci fa la rivolució... ...perviga la libertà... ...e me che galò... ...garese d'andar... ...a esbatir la mia... ...peri sol... ...peque es payasso... ...te te mergo... ...è... ...ma che sempre... ...la possibilità... ...de divorcio... ...è... ...e... ...perque... ...te'l fei mia... ...eh... ...e... ...l'ora se fa... ...ma caratà... ...la me per... ...comanda... ...è... ...està che ieri... ...il vecchio Martinet fuori... ...e... ...l'era preoccupata... ...e... ...ce... ...c'è col... ...està che... ...mesura... ...facoli... ...senta... ...la panchina... ...lì... ...è... ...la tersina... ...dei... ...cagni... ...il ma... ...somma... ...ma... ...at... ...el volere... ...svedere... ...a spusare... ...son io... ...prima di... ...è fuori... ...adio... ...le mie una farina... ...però... ...forse tu so... ...i sette sei gioccolata... Grazie a tutti. vorrei parlare dei tempi passati, di quando c'è fisca, il grasso a una la vita, e che invece adesso quando stai fresco che è sparito mai... Eh... se ne li giù, eh? S'era un po' poverè, parlando che poc'è un mio, basti al saltone per tante volte, però per la mia che immusa tutta la seta in giro ad essere... Ma perché se non li agi esti bene se tu asci un po'? Ma... ne li giù è tante, sono perboisti, vena buona di lisbet, la macchina, i sorsi, i vestiti, e i sei riscarcati del cuore del governamento. Sarà la via la politica. Ma... che non c'è, ma... uno invece da sé, da credere esser che sinistra invece è una pena mancina... Ah ah ah... Ah ah ah... Un santo e pretese... Suoi diritti e il cito dei suoi doveri. Adesso, chi che parla in sé, facciamo quale un quistico. Ah, una bella scusa per me, Ardanguino, la Eretà. Eh, ma lascio non perdere queste malinconie di oggi. Sì, che restano due a te, come ne? Falta bella da scomenda tu. Ah, da sicuro. Com'è il mio compà il figlio Scarpel, eh? E' il mio amore che aspetta che tutte le balle, che le d'accontazione della vita, le direzze a me l'età. Ah, 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 ah. Certo, com'è il d'Abru, che le ungeglie a mia per vivere, eh? Oh, miseria. Alfa, chi? Alla me l'età, il lupo cambia il pelo, ma non l'ospizio. Ma intende che passate io tanto? Una vita spesa bene. Sapete adesso pensare a poco fa, che è tardi agitì, fino a mai all'ufficio del collocamento generale. E il Campo Santo... Ma che dico il maio? Ma che dico, eh? Oh, no. Ma guarda, ora sei in campo? Eh, guarda, un bel calicino, ed ho una sguirata che pensa che... Prodi. Salve. Ma guarda che in giro come un giovane giovinotto. Ma che non vergogna la solta. No, Giovanna, cos'è? Distinti saluti a te, eh? Salve. No, no. Salve. Dissinti che saluto commerciale. Allora, gli si da un punto, una colletta, e la riado all'ufficio. Però, che mi le fago caso, né? Dalla cara mania di fare l'intelligente, ma... Le teto assorato. Piano, piano, con i titoli odorifici, né? Come in casa Martinelle Guerrià, una ventagliata di freschino cultural. Una specie di ciclone che tutto stravolge e porta via con sé nel mondo incatramato del sapere. No, del sedere! Ma... 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 Ero sempre di sé pieno da me anche, non? Sempre. Sempre di sé. Sì. Sì. È un po' d'energia e di filosofia, don. Che come il dizia il greco Aristotile, Onassis, l'è la scienza di tutte le scienze. Ecco, la gara appena non difende. Lascia niente più di musica per il fiorino. Non c'è spazio per l'ignoranza della mia vita, eh? Qu'ho appena rompato, tu dischi di quel musicista tedesco famoso quel che è il gannone di Peguro. Il gannone di Peguro? Ma se fa... Be... 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 Promosso! Ho appena rompato la sinfonia detta l'erotica e l'asciunato la paripatetica. Nooo! Nooo! L'eroico e l'apotetico! Precino! Sì, nooo! E guarda troppo qui commentato! E poi, in questa pressa mai un'iniziativa, mai niente che sa muo' è! Stefano! Perché che pensa l'amica a nessuno, Giovanna? Se l'è perché il gare pensato una oltre. Voglio fare un monumento ai polastri. Al polastri? Stai, penso mi cadrebbe al sì qualche merpernote! Oh! Oh! Nooo! Qualche sadehento è, che soli sadehento può sorgere. Ma con il canale di Firtino! Buongiorno! C'è uno che fa la gran partenza! Nooo! Arrivederci comandatori! Nooo. Sovist Research. Arrivederci! Arrivederci! Eh! Giovannotti ma recomandi! Riburdi! Che l'ascenti elettrico! L'è mio un elettro domestico! Ahhhhhhhhhhhh! C'è un che numero è! Eh ma? Ah, ma c'è un caso! Grazie. 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 Carlino. Carlino. Andose! So que? So que comenta tu, Reñes? No acordes nota. Capo las callas sento so. Sente, che è il miglioro di famore. L'Elder ti vi ha pulito la facendo. Ma comenta tu? Ma il proprio sicur del libero. Ma donno, ma donno, i li di. Viene il proprio faccio sotto a scherz che? Carlino. Sente, che sarà l'ultimo. E allora, al garrere passare al Asturio. Come è il fan? Ma è il che osa metterla in del lei? Carlino. Io è mio per il fondè. Mentre... Andato prima di andare all'altro mondo, porto una mezzo bottiglia di San Martino. C'è il che dopo avversa la guerra a italiani, francesi a San Martino e Solferino. C'è il che bisogna pagare il bec, eh? Perché dopo per loro prendere il vino, eh? Tanto servite a te che il comenta tu. E allora... E allora... fu le proie dell'ultimato, comitio o falso. Ma, siete do, la vita le urlano vien da nomen, poro, contenteso, alchevaz, vicino, malinconio, rabio, o comunque, a lo mejoro, sempre ronde. Al condannat al baccaro dell'Ulpen desiderio. Piano, piano, Carlina, temen, che l'enamor de comodo. Senta so, sta mio limpi. Camino, che pensa? Dice che piangerebbe proprio bene. Si or comenta tu, appena che il sa l'amore, alvederà qu'il sa orecch. Perché? Ma no, ma no, Uli è di, al comenta tu, alvederà qu'il sa orecch. Oh, beato tico, beato tico del Sant Gioc, ma sopella quel che mi sa dice. No, signor. Va bene, va bene, è di che t'ha sentito emozionato. Si, eh? Oh, calma, se no. Se no che mi ha avuto da remerote, eh? Ma comenta tu, come puoi a formare? Adesso comincia a far apparenci di sta male. Se facciamo i famigliari di letto, sa di si seguono. Si, si. Ma fumo entrandole, e dopo non voglio amare il quanto che mi pare. Io vissi. Si, va bene. Cioè, va male. Sì, sì, Carlino. Ti prometti che quanto il tetto sarà finito, farò il bravo set. Allora? Ciammi. 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 Signorina Paola! Cieco! Viero! Signora Giovanna! E' comenta tu, nesta mia be! Anzi, a sta mal demore! Ciammi. 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 che è succedente? che è successo? non mi sono ancora non mi sono ancora ma si è ancora ancora non si è ancora ancora silenzio le comandate a dire che le comandate che sta via che molto molto che mi ha scemeo una palata al salazzo andate insieme a un strass bagnato a dire che è il gandolo che è che fome che è bisogno di un intervento di salvamento come che vi faccio il lato di sé primo respirazione bocca a bocca a costo a costo per fronte i maghi una qua costa ma non la che è stata che è stata fatta di fare non è male ma no ma no la sarà non dì stiu carlina prepara una bella limonata amaro ma no ma forse la mia per me è buita questo giorno al bar si senti male e il calafo a bere in un momento il capito se puoi dire e te se non l'urcì i mamandò al mondo ma mi ha la petta del sole ma mi ha la petta del sole ascolti fome una portantina con i lensoi ma sono che sic sic due per i pè e due per le spalle mette mandalè allora a me è pochè la che di sic eh no chi crede mai dì che non lo pesa i setan a me è risù eh lei come te sei un sate di patate non d'espeppe un muribone ehi carlina ma hai da la camisa da noi con le scarpe anche a dì che ente il viaggio del mondo è là sa camina più bene con le scarpe che no con le sate dunque a posto al mio 3 su 1 2 3 via oh attento attenti avanti 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 vieno attento vieno del boccal paparino origliato 1 2 3 3 c'è via un bici come te eh dai 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 indietro girarsi avanti piano piano puoi avanti adesso quando dice via uno due tre via su che si dà da sei qualche o di riusci da l'altro ma nu avanti 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 le scarpe! Che odore pedonale, Nanno Maturato! A me, Maturato! Che respira tu, eh? Sì, sì, è il respiro dell'età, un migolino lento, ma come te terresti! Sì, sì, è il respiro dell'età! Ma, per me sta qui se soffa niente, eh? Alcanzarà qui è! Il garazò! Nolo! 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 Che fai, Nolo! Che fai, Nolo! Che fai, Nolo! Che fai, Nolo! Ma no, non è possibile questa possibilità! Che fai, Nolo! 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 Eh, bisogna chiamare curati che dalle pompe funebri! Che fai, Nolo! Che fai, Nolo! Che fai, Nolo! Che fai, Nolo! al contrario di altri che inasco la camisa è il camiso che no, con l'era di cambiare, dei stili della hand, chi ti va da una mano? a me no, figlio mi salva a fare schifo di vivi, figlio mi sapo di me a me carlino, ma la senti mio adesso che l'è vuta, che ho usato di roba da fa carlino, neanche me, ma solo senti mio va, va Paolo, ma se mangi bene, va pure se mangi bene, grazie a voi ho ha comendato assi carlino, che s'ho sta per il vento del signor ho seguite il comendato e tu? al signor, ha metto tre idee a risuscita me, n'è des minuti se si vede, che mi ha tempo di perdere al grado che ha il camisotto è metterse il vestito è morto ah, certo, certo al mondo là voi presentarsi in cravatina e vestite a schire è una roba importante lasciano con un urinato primo che mi ha fatto che si vede che mi ha fatto che mi ha fatto Ehi Carlino, dann le braghi. 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 Ma io ti dà piacere che penso a te. Ehi Carlino, a pensi? Si, che pensi a me, preoccupi a me. E' mia famiglia, che le cose, e' a me o' a me, le sa' a me, a me, a me. Brava, ma quando hai tirato i sgarle, e' a me, nelle braghi. E' a me, e' a me, io sempre la meno uno filo meno vai tanto, vai tanto devo avere un c'è per ricordo oh no non ricordo non ricordo che l'estate niente ciao si che può voler per tu carlino che stanno chiamando qui al trenco e può credere a cazzo la donna signorina Paolo che è mio fresco che vale le tutte le persone che può aspettare tanto è un po' il comandatore dell'estate per me ah se l'è perché certo che non è ha rincresso per l'amor di Dio magari considera che sta il cacchio tanto saprà che sarà la sua bottega e fa sé che sapessi alto ti metti a noi la baracca ma nono non è come che credere saper vinda se è stato rinno a me come panda adesso c'è esagera migane morta mattinesse Anthony Walter ecco allora che è che tutta la famiglia bene bene che è subito c'è tante robe importanti e in quel momento che deve essere uniti al massimo anche per la zen insomma come dice il primario dell'ospedale civile stoma contatto di vomito e al papà è morto e noi da adesso adesso il capo famiglia su me adesso mio se gassarà un test a me all'unica potera masi due su non appena a me calma Piero calma che è che sarà tanta rimirare tanto modo me subito a pensare le mie sostanze ma ma paramo vanno la disputa da soli la sapete il secco la sei a sta povero Martinell le propris riatt all'ultima fermata del trauma anche per le divisione e le case dei tari e gli appartamenti bisogna raccomare il geometro c'è ma anche so muirla geometro è sempre interessante incrociare amicissi sconosciute questo qui è tutto scarpucciato da serpe quando ti cerco a sei amore famiglia per te che pensi mai ma papà dopo che me me la terci non mi aspettata per noi sì le poche dischi le velo spusano però papà ti ma che dire che noi non non stiamo se il signore si vuole vedero fare rimodernare la casa come pensate un architetto che usa? che dice? che usi? ma no te grido no come se adesso sono capesce manielli insomma via per prima roba tutta sta roba ecce è antica via credenze, ottomane quadertà e tutta che? che è la roba di adesso? di questa nostra era così dinamica piena di fermentazione e stilizzata stilizzata che vuole tanta roba insomma bisogna tirare via te mamma fermati insomma se no non torno a Andrea queste sono cose che conto poche l'importante è che sappia a me che comando e che amministra e me Piero al tuo fianco consigliare al becchetto è il nostro relo è più grande che deve morire e che vuole bene ha il sole però e sarà da fare un infettore e stare gli appartamenti e poi dico il ciamacco oggi che voglio disponibile una certa disponibilità per i miei secondi piaceri secondi piaceri? sì dai minuti piaceri disto e ma me ve li è schirtala ma 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 parche il nonno si sape le mie vite eh mi dici che ne sarà le scosse di assestamenti ecco guarderle le fai belle d'amor che deve dici qui in quella posizione che di preoccupazione è mia e per la preoccupazione adesso è un me e Camino che hai scelto? che hai scelto? che hai scelto? che hai scelto? anche mio se il papà che aveva lasciato un testamento in acqua a bando un testo confidato forse non lo hai stivalo sono niente si è niente si è niente e poi Signor Piero, la sapo lì che il comandatore le unò in piede sorprese. Come l'è? Però, adesso che so me che capì. Sì, ho capito, ho capito. Spero che il comandatore paga la fetta di sussitare. Signor Piero, ma par per quel che so me che il comandatore al gabbi la sa delle sostanze è un beneficenza per i scettini di capace. La di capace o me? Sì, l'agis lì? De caso Martinelle, ma io per un bel senso che me al sapere o il volere. Adesso basta, me. Coronde a capigliarsi per i capelli dopo. Per la decorazione della famiglia, Gonde fa svedere spiangere. Per tutto il resto. Come dice il proverbio, chi muore e giace. Oh no no! Chi sarà il corto che si attira? E sarà il corto che si attira? Ma che si attira è stranche. Ma le fa senta solo. E non è neanche io. Come dice Giovanna, chi muore e giace. E a chi vive, Martinelle non gà la pace. Che vuol sapere com'è andata tu? A dire la verità, le mie non sono più su troppo comodo. Penso che più volte c'è un tanto fiamme. papà, ma allora tu sei mica morto. Ma tocca rimescolare teci i miei progetti. Tu non so. Ah ma no no, si te che rompa la minacola. No no, ma il minacola è stato costretto. La mia opposizione. La mia opposizione. Ma signorle, che amore per le uova. Carlino, tutti questi cacerelli mi ma fa seccare la gula. Ma tu mi ha messo bezzer da quelli che fa resuscita i murci. No no no, doente, ferma che che adesso ho da dire le volontà visto che se le fisse curioso a te a te Piero che ti ha sentito il comandare il regimento. Ti lascerò la tenuta da Calvisa. Ti ha mai messo le bestie forse ti ha diventato il regno che è meno un gurt. E vuoi il campagna c'è pa o mola. papà e me che tu sempre vi uniti se vè a te paolo la caso ezzo un impegno di tucca niente scarpoli di quel che vedete e me garese diventa campagnola seguito da pieno e no e per caso mi faccio un frate trappessista di quei che c'ha culo a mia pe... si, di quei che ho detto ora è solo ti chiedere da tutti i giovani e poi le migliori diche in campagna ti resta senza miratori hanno messo tante bestie anche di no per di no meno a fare una roba del genere la so coscienza la garese diventa un rimarco che passerà per niente da pochino no 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 e poi ci sono le tante del prudenzio che non vuole da endere. Ah papà, le com'è fatta via te? Te preoccupi mio, un tappo casò a mo me. E poi se checo, al s'assetta la mia su qui, al pedale sempre domandare consiglio a te, e a come è la frate trapezista, come è Giovanna. No, 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 la s'è mica niente, meno così di studiare con della tanzina. Ormai che ho decidito, a po' dopo la euro che te sa metterà dovere, eh? E amon che il chamarone non è per metter nè garso il bianco, a papà penso che al mo, e poi se ti è consacente la mia sicura, che il mo' è fuori a te, del resto, alla farà bene almeno lì, anche il suo mio se ringraziato, non un martinello, con la nostra marina che l'ha mai com'ù sulla vita. se te lo scombustorato fa almeno un martinello. Ciao, nonno. Ciao, nonno. Ah, nonno, no, no. Sì, la vita, eh? T'è, t'è, è, vuota sta ferma per sempre. e faccio un artinello, l'eurodemo calore, la vita l'è, marcia leal, marcia non si alta, marcia funebre. Che l'affarebbe almeno cieco, del resto anche, che è più del ragioniere commercialisti, che aveva amato il lavoro, compresa il sistema di pagamento delle tasse. E poi, a me che mi attoresco, l'importante è che io mi scarrono con nessuno. E io, non so, con quel calcaio, ho fatto qualche settimana, e poi magari un farolo. Ma che fa il commentatore? Parla per questo conto adesso! Cardino, alla mia età il pensiero sarà bisogno di sentire. Però, comenta tu? Piero lo tratta con la carta un vedriadone, le verrà che il piano si muove ori? Dillo che si mette in dalle, il se il piano si può come. Ando, Carlino. Ho pensato un po' per te, Carlino. guarda, tu sei anche che tu sei stato qui con me. Se tu le ore mio sta con della Paolo, tu lasciate un appartamento e tu sei in banca. A tua seconda pensio. guarda. Il vedrà il comandatore che gli scampo per tanto di me. E che ho bisogno di lasciare la casa a Martinet. Eh, Carlino. che dici? che dici del paradiso e dell'inferno? ma beata tecla del San Giorgio. ma soppegna quel che mi sa di se ma fa straparla. e mi dici? beata tecla del San Giorgio. me la crede? eh, come se la crede? l'impetenza. l'impetenza? l'impetenza? e gli dici che anche io l'inferno? e se il gare? e se il gare? e alla facendo che... toscotto le chiudate? me so convinto che vuole dire che che sarà una sofferenza? cioè che sarà come un castiglio per chi è che della vita? e da mia un lì beh aiata. e me... dici che andrò all'inferno? all'inferno proprio no. ma un migo del purgatore! ah, migliano! e... non ho mai credito ne troppi a queste robe dell'altro mondo. sono sempre stato un po' di sacchi da là a poco qualche su un mondo per scherzo. però... ma anche se io la vi... ci che penso... e allora... dice... che lei qui dico... lei è un po' comodo... però... fa bene stessa la... e... e ha ramenato dei peccati? ma... me credi... che nel mondo là... i Gabi ti è giudicato tutta la vita? e in modo particolare... se sarà fatto del male al prossimo? ma... vabbè... perchè sto che... ma sente poi a posto... a... pulga... torre... talire... 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 ma perchè... c'è me il via... un prego per tutte quelle belle robe che... che... o mio bisogno... il carino... t'ai nome fatto... e poi le fracomfessur... e adesso... sente... il che riata... il momento... di andare a fare cunti... con ragioniers del mondo là... Ciao, Catrino, e mei che hagi, mei che hagi via, e hagi via scapì. Come è da tu? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.